Ooooooh AC Milan, ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti! Noi facciamo i chilometri, ooooh superiamo gli ostacoli, ooooh col diavolo, infonda il cuore e il rito l'abbiamo fatto! Ma quanto sono carico per la partita di domani ragazzi, non vedo l'ora di vedere i nostri ragazzi scendere in campo, ho proprio voglia di vedere la C1000 scendere in campo, quanto tempo era, quanto tempo era che non mi succedeva una roba del genere, quando andavamo male ragazzi, in questi ultimi 10 anni, quando andavamo male, io avevo sempre voglia di vedere il Milan, ma non era come adesso, adesso non so voi, fatemelo sapere qua sotto, ma io adesso ho proprio voglia, non vedo l'ora di domani, della partita di domani per godermi, per godermi il nostro AC Milan. Allora appena finita, come vedete sono ancora bardato perché ho appena finito pochi secondi fa la conferenza stampa con il nostro mister. Tra l'altro raga, figata totale, figata totale per chi non viene a vedersi le conferenze stampa sul canale Viola, ai ai ai, perché abbiamo avuto in esclusivo, avuto la possibilità di fare le domande, la domanda direttamente, il vostro amico Lollo è riuscito a fare una domanda direttamente al nostro amico mister, al nostro mister, che è anche un nostro amico sì, però al nostro mister. Gli abbiamo fatto gli auguri perché, come sapete, è diventato, ieri è diventato nonno, è diventato nonno per la seconda o terza volta, non ricordo, comunque è diventato nonno, gli abbiamo fatto gli auguri, Mauro Suma gli ha fatto dei regali, insomma, gli ho fatto la domanda e gli ho chiesto come si affronta l'Atalanta, e lui mi ha risposto, mi ha detto, Lollo, come si affronta, si affronta come abbiamo sempre giocato, con la nostra intensità, con il nostro modo di fare, sicuramente non andare a snaturarci, perché secondo me, raga, è quello il nostro segreto, che noi affrontiamo il Venezia, affrontiamo l'Atalanta, il Liverpool o l'Atletico Madrid, noi entriamo sempre con dei grossi coones, noi entriamo sempre con il nostro modo di fare e il nostro modo di giocare, è quello l'unico modo, ragazzi, per fare bene nel campionato italiano, ma per fare bene in generale, cioè avere una propria identità e continuare a giocare con la propria identità. Adesso guardiamo poi la formazione che scenderà in campo domani, leggiamo qualche parola del mister della conferenza stampa, ma prima di andare in sigla, ragazzi, vi volevo dire questa cosa, una barra due notiziette di mercato così veloci, veloci, veloci. La prima è, secondo quanto riportato dall'Inghilterra, in Milan sarebbe interessato all'ex Ajax Donny van de Bic, il trequartista del Manchester United, oramai ai margini del progetto dei Red Devils e ci sono anche altre squadre interessate. Allora, vi do un dato, ragazzi, allora, magari, premetto, raga, magari il Milan acquistasse van de Bic, a me piace un sacco come giocatore, ma qualcuno nel commentare questa cosa ha scritto per eludere qualsiasi notizia di mercato basterebbe guardare quanto percepisce il giocatore. Il giocatore guadagna in questo momento 6,2 milioni di sterline, cioè tradotti in euro sono 7,2 milioni di euro. Ora, non si è ancora capito, cioè io penso di aver capito una cosa, ma non avremo mai la controprova, non so come verificare questo dato. Quando si parla di stipendi della Premier League, si parla sempre, 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 sempre di stipendi lordi. Non stiamo parlando, quindi, che van de Bic si piglia 7,2 milioni di euro netti, perché sennò sarebbero quasi 15 milioni di euro lordi riportati in Italia. Secondo me, quando si parla di stipendi della Premier, si parla sempre di stipendi lordi. Quindi, se fossero 7,2 milioni di euro lordi, si starebbe parlando di 3 milioni e mezzo, circa 4 milioni di euro netti al giocatore. se può fa, ok? Però questa è una regola che vi do, tenetela nel taschino, tenetevi sempre questa regola. Se vedete che un giocatore viene accostato al Milan, ma questo giocatore si becca 7,8 milioni di euro netti, raga, non guardate neanche la notizia. La notizia è una pura e semplice... stupidata. Stavo dicendo un'altra cosa, ma non lo voglio dire. È una pura e semplice stupidata. L'altra notizietta di mercato che mi ero segnato da dirvi è questa qua. Insigne sta ancora discutendo il rinnovo con il Napoli. Ah, ma perché quindi non sono solo i giocatori del Milan che sono in scadenza di contratto, no? Perché a leggere quello che scrivono i tifosi... Perché vi spiego come funziona, ragazzi. Funziona così. Ci sono tifosi di altre squadre che scrivono sulle testate, sono giornalisti, scrivono da altre parti. E ovviamente nel loro interesse creare del malumore all'interno della tifoseria del Milan. Quindi soffiano su questo discorso del rinnovo di Chessy. Attenzione, non sto dicendo che il rinnovo di Chessy non sia importante. Anzi, anzi, secondo me è un vero e proprio problema. Ma il fatto che la stampa spinga tantissimo su questa cosa, facendo sembrare che solo il Milan ha i giocatori in scadenza, se in realtà c'è Di Bala che è in scadenza, c'è Insigne che è in scadenza, all'Inter anche loro hanno in scadenza, Vlauvi c'è in scadenza, anche lui deve rinnovare, non vuole rinnovare perché... Non esiste solo il Milan, ragazzi. Non c'è solo il Milan che ha questi problemi di rinnovi. Non sto sminuendo, eh. Attenzione, attenzione. Non sto sminuendo. Il problema esiste ed è grave perché va risolto, perché anche il giocatore magari non è a posto, può non essere a posto magari per questa cosa. La risposta l'ha data il mister? Ah che sì, ma adesso la guardiamo insieme. Prima di andare avanti, ragazzi, per portare bene la C-Milan, pollice in su, almeno 600, 600 pollici in su, vogliamo 600 like a questo video per portare bene la C-Milan per la partita di domani. Quindi, 600 like, ma soprattutto qua sotto, come sempre, c'è il tasto iscriviti al canale, iscrivetevi, ragazzi. Iscrivetevi, non costa niente e mi fate contento. Uno, due, tre, sigla... Andiamo subito a vedere la conferenza stampa del nostro mister. Allora, ha parlato, adesso aspettate che ho fatto bordello con le finestre e mi sono perso gli appunti che avevo fatto. Ecco, aspettate un secondo, conferenza stampa del nostro mister. Eccola qua. Allora, che cosa ha detto il nostro mister? Ibra tra i convocati? No, penso proprio che Ibra tornerà dopo la sosta. Che sì? Eccola qua la risposta, ragazzi. Non mi preoccupa, è lo stesso giocatore dell'anno scorso. Purtroppo, per vari problemi, raga, perché ha fatto le Olimpiadi, se è tornato, se è fatto male, non è ancora al 100%, ma comunque è un giocatore molto forte ed è importante per noi. E attenzione, è sbagliato a giudicare le prestazioni in base al contratto. Le parole che bisogna scolpirsi nella testa di tutti i tifosi sono queste. È sbagliato a giudicare le prestazioni in base ad una scadenza di contratto. Se vogliamo parlare che Frank ha sbagliato a fare a prendere il secondo giallo e si è pigliato il rosso, ok, quello concordo assolutamente con voi, ma giudicare le prestazioni di un giocatore se è o meno in scadenza di contratto mi sembra abbastanza ridicolo. L'Atalanta sta bene, dice, ha vinto mercoledì, ho visto una grande attenzione, ho visto anche con grande attenzione la partita con l'Inter. È una squadra molto forte con tante caratteristiche. Mi aspetto un'Atalanta molto determinata e completa. Raga, l'Atalanta purtroppo poi noi la conosciamo la conosciamo bene. Volevo, prima di guardare la formazione, raga, volevo volevo dirvi una cosa. Allora, ho una voglia matta di vedere il Milan, ma ho una voglia ancora più matta di vedere Junior Messias in campo. Walter Junior Messias. Tra l'altro mister che ne ha parlato e dice come sta Messias e in che ruoli può giocare, attenzione perché sono importantissime le sue parole, lo vedo molto bene anche se ha fatto soltanto due allenamenti con noi. Mi è subito piaciuto tanto. Tocca molto bene la palla e regge molto bene la pressione dell'uno contro uno. Può giocare sia a destra sia come trequartista. Vedremo, è un ragazzo con tantissima qualità e secondo me ci darà una grandissima mano. Queste sono le parole del nostro mister su Walter Junior Messias. Quindi non sono le parole di Lollo o di Suma o di Serafini o di chi volete voi. Sono le parole del nostro mister che l'ha allenato per due giorni quindi ha avuto modo di vederlo e ha visto che il giocatore è un giocatore molto molto importante. Andiamo a vedere quella che dovrebbe essere la formazione in campo che scende domani alle ore 20.45 domenica 3 ottobre contro l'Atalanta. Atalanta che giocherà con il solito 3-4-2-1 sia anche lì se in realtà poi loro giocano 3-4-2-1 per l'Atalanta insomma è un po' vabbè comunque fa niente. parliamo del Milan. Milan che scenderà in campo con un 4-2-3-1 come sempre e avremo in porta con il numero 16 Iron Mike Magnan olè a destra il nostro terzino con il numero 2 Davide Reggio Calabria centrali torniamo con sia Tomori che Kier quindi Masterclass Tomori e indovina Kier numero 23 e numero 24 a sinistra giocheremo con il numero 19 mio zio Matteo Hernandes mi piace perché ripassiamo tutti i nostri soprannomi centro campo allora qua la gazzetta da Chessy Tonali secondo me giocheremo ma è una mia idea secondo me giocheremo con Pierino Benasser e Sandrino Tuono Tonali dalle parole del mister mi sembra di aver capito queste cose quindi Frank secondo me potrebbe partire dalla panchina in avanti giocheremo in avanti giocheremo con Gino Maker Silvelista numero 56 Braimino Diaz con il numero 10 come trequartista il centrali mamma raga se va dentro la rovesciata di Rafa San Siro San Siro implode raga se va dentro quel gol lì diventa il gol dell'anno della Champions League con il numero 17 il nostro Raffaellino Leao il centralinista Leao e davanti giocheremo ovviamente il mister ha parlato anche di Giroud aspettate che mi ero segnato anche le parole su Giroud e dice che Oliviero non sta ancora bene ha ancora qualche problema alla schiena e si aspetta il mister di vederlo al 100% dopo la sosta non lo trovo più ragazzi comunque queste erano le parole del nostro mister su Giroud ma me le ero segnato raga vabbè non le trovo più comunque ha detto queste cose e ovviamente in attacco quindi non potendo giocare con Oliviero il bomber vero giocheremo con il numero 12 il nostro ante Saiko Rebic bene ragazzi penso di avervi detto tutto sono molto contento forza Milan dai noi facciamo i chilometri superiamo gli ostacoli un saluto a tutti ragazzi forza Milan vada via chiudinter ciao 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 Grazie a tutti.